Sono in corso gli scrutini delle schede nelle 137 sezioni di Sassari, al momento tra i sei candidati per la carica di sindaco e fuga per Nicola Sanna del centro-sinistra, che sta raccogliendo oltre il 65% di consensi. Al secondo posto si attesta Rosa Narru del centro-destra, molto staccata, con una percentuale intorno al 12%. Vicinissimo, e ciò rappresenterebbe il dato nuovo di questa tornata, il Movimento 5 Stelle, con Maurilio Murru, che si attesta intorno al 10%. Segue Nicola Clemente con una coalizione di centro, che si sta consolidando intorno al 6%, infine Antonio Cardin, del PSDATS, che non raggiunge il 2%, e il fronte indipendentista Unidu di Cristiano Sabino, poco sotto ad un punto percentuale. I dati sembrano far emergere una certezza, che non sarà necessario il ballottaggio dell'8 giugno. Per Sanna si profila un risultato superiore al 50% più uno dei voti validi. Diversa la situazione ad Alghero, dove altri sei candidati si stanno contendendo il posto di sindaco, ma con due nomi forti a dividersi la posta. Si tratta di Maria Grazia Salare, Forza Italia, Nuovo centro-destra, Fratelli d'Italia e EPSDATS, che si attesta intorno al 30%, e Mario Bruno, con una lista civica più UPC e UDC, con un 33%. Il Partito Democratico, che ha scelto di schierare Enrico Daga dopo aver escluso proprio la candidatura di Bruno, è terza forza, con un 15%. Anche qui è presente il Movimento 5 Stelle, con Graziano Porco, Fermo al momento al 13%. Staccatissimi Fiorellati Locca, Di Selle e Stefano Lubrano, il sindaco uscente, che si presentava con una civica, entrambi vicini al 4%. A sorso si conferma il sindaco uscente Giuseppe Morgan, che a capo di una lista di centro-destra ha sconfitto Mino Roggio, conquistando due terzi delle preferenze, pari al 67% contro il 33% del suo avversario.